in liguria incastonato tra il mare cristallino e la riviera di ponente gruppo unipol presenta uno dei gioielli più incantevoli del suo patrimonio viviamo il benvenuto a marina di loano marina di loano è classificata tra le prime dieci marine più belle del mondo e da un ottimo apprezzamento da parte del mercato per mantenere questo posizionamento è necessaria una continua crescita grossi investimenti e da qui l'opportunità di far parte del gruppo marina di loano è fatta di persone che si distinguono tra quelle che si occupano di gestione e quelle operative sono proprio le seconde che hanno il primo contatto il primo rapporto con il cliente che sia via mail al telefono via radio in banchina per quanto riguarda gli ormeggiatori il nostro fiore all'occhiello coordinati dal nostro omo e supportati dalle ragazze del front office una destinazione meravigliosa non solo per chi possiede una barca ma soprattutto per chi ama il mare le attività all'aperto e perché no ogni tanto il dolce far niente l'unicità della nostra marina è l'adattazione dei servizi orientata non solo nei confronti del cliente di portista quindi della parte amare ma anche del cliente che cerca una vacanza outdoor il nostro è un porto vivo che si propone come centro di aggregazione per eventi e manifestazione di ogni genere è sicuramente la sinergia con il territorio che diventa un plus sia per il territorio che per il marina stesso noi offriamo servizi di prima qualità come il marina beach che è lo stabilimento balneare di marina di loano la nostra spiaggia che è lunga 200 metri per un'ampiezza di 16 mila metri quadrati dà la possibilità di rilassarsi di divertirsi alle famiglie con i propri bambini e di portare i propri amici a quattro zampe il nostro desiderio il nostro obiettivo è quello di incontrare le aspettative dei nostri ospiti generando un passaparola virtuoso implementando sempre nuovi servizi per rimanere competitivi tutti insieme infatti contribuiamo al risultato finale che non è mai scontato e che ci vede sempre impegnati a migliorarci per arrivare poi alla ricerca della soddisfazione del cliente un cliente esigente ma soprattutto sempre più guidato da una coscienza nuova stiamo investendo molto sul tema della sostenibilità tema sicuramente molto importante per orientare la scelta dei clienti e peraltro anche molto sentito da parte del gruppo da nove anni ci viene riconosciuta la bandiera blu e negli ultimi anni abbiamo anche tenuto diverse certificazioni del rina lente certificatore tra le quali la certificazione green è quella che ci rende più orgogliosi servizi di alto profilo attenzione alla sostenibilità un volto nuovo che marina di loano mostra anche nei dettagli abbiamo pensato di dare nuovo corso al marina partendo anche dall'ideazione di un nuovo marchio che è caratterizzato da due elementi distintivi di cui il primo il guidone rappresenta molto il mondo nautico mentre il secondo l'oblò rappresenta invece un elemento distintivo del lot club sempre nell'ambito del processo di restyling del marina abbiamo promosso un concorso di architettura che ha confermato l'interesse da parte di architetti internazionali infine l'investimento più recente in ordine di tempo è la realizzazione del sito internet che online dal 27 luglio sappiamo di avere un vantaggio competitivo importante perché marina di loano un porto sicuro dal punto di vista meteo sostenibile e che offre servizi di prima classe questo per noi è un ulteriore stimolo perché sappiamo di proporre un prodotto di alta qualità per sedurre i clienti il fascino di marina di loano conta ma a volte serve qualcosa di più come le tante offerte dedicate ai diportisti questo è ovviamente un gesto per attrarre il cliente dopodiché saranno i servizi stessi a convincerlo e a creare un legame duraturo nel tempo è difficile infatti rinunciare a marina di loano dopo averla provata